La città di Pestum punta sulla conservazione e sul restauro del Tempio di Atena, patrimonio unesco dal 1998, grazie al contributo di finanziatori privati attenti a preservare la memoria del passato della colonia magno-greca di Poseidonia Pestum. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria che ha trovato il sostegno economico della famiglia Barlotti del caseificio Barlotti e nella famiglia Pagano, proprietari del Savoy Beach Hotel e dell'agenzia agricola San Salvatore 1988. I due mecenati, affermati imprenditori cilentani, hanno donato una generosa somma tramite la piattaforma del Mibact Art Bonus e hanno così consentito la ripresa dei restauri del Tempio di Atena, a dieci anni dall'ultimo grande intervento. Le operazioni in programma permetteranno la rimozione puntuale dei sedimenti tra le lastre di travertino per evitare la crescita continua di vegetazione infestante dannosa per la struttura, mentre per quanto riguarda i lavori sulle parti alte è prevista la manutenzione della guaina che protegge la struttura dalle infiltrazioni d'acqua piovana e dalle parti metalliche inserite nel corso del tempo e non più eliminabili. Ci aspettiamo, grazie a questo intervento, ha dichiarato il direttore Gabriel Zucktrigel, di avere al più presto un quadro aggiornato ed esaustivo delle attuali condizioni del Tempio e di tutte le sue componenti, in modo tale da avere a disposizione ulteriori dati scientifici per garantire la conservazione della struttura templare, anche grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie informatiche. Preziosa è stata quindi la generosità dei finanziatori locali, ci auguriamo che queste forme di cooperazione con il settore privato possano aumentare. Con queste donazioni, conclude Zucktrigel, possiamo garantire interventi di manutenzione costanti sui tre templi meglio conservati della Magna Grecia.